Siamo con Claudio Cicero, assessore all'infrastruttura del Comune di Vicenza perché non ci sono solo comuni piemontesi oggi a Torino. Perché Vicenza dice CITAV? Noi diciamo CITAV proprio perché ci crediamo, ci abbiamo sempre creduto e dobbiamo dare solidarietà anche a Torino in questa battaglia che è una battaglia che bisogna vincere assolutamente perché le infrastrutture sono importanti, il nostro territorio ha assolutamente bisogno di queste nuove infrastrutture. Oggi stesso sono venuto con il treno, ci ho messo meno di tre ore, credo che questo sia l'unico biglietto da visita da spendere. Voi governate con la Lega, quindi lei rappresenta anche la Lega oggi? Io rappresento la Giunta, nella Giunta c'è anche la Lega e la Lega è convintamente convinta di poter fare questa infrastruttura e di farla anche da noi a Vicenza.